Apriamo la conferenza stampa alla vigilia della seconda giornata di Serie C Now, la prima, tra le mura di casa, presentando Arzegnano Valchiampo, Albino Leffe. La parola al tecnico Alessandro Bruno. Grazie mister. Sì, sarà la prima partita in casa, vogliamo ben figurare, vogliamo dare continuità all'ora di gioco che abbiamo fatto al Trieste, che secondo me in quell'ora si sono viste discrete cose, abbiamo fatto abbastanza bene. Poi abbiamo avuto un piccolo blackout di 10 minuti che poi ci ha condizionato tutta la gara. Partiamo dalle cose buone, la squadra sta bene fisicamente, sta crescendo, sono contento dei ragazzi perché si stanno impegnando veramente in modo al 100%, quindi sono felice di questo. Abbiamo preparato una partita in maniera molto dettagliata al cospetto di una squadra che da anni gioca un certo tipo di calcio e che comunque sono affiatati, in quanto 15-16 giocatori sono lo zoccolo di questa squadra. Quindi è una squadra che è abituata a certe partite, è una squadra che è abituata a questa categoria e noi dobbiamo essere famerici e quindi dobbiamo affrontare la gara con determinazione dal primo minuto. È una gara tosta, difficile, però noi ci siamo preparati veramente bene. Francesco Meneguzzo del Giornale di Vicenza Sì, ciao mister. Beh, ti chiedi innanzitutto come sta l'Arzeniano dopo la sconfitta di Trieste. Ma noi stiamo bene, la squadra sta crescendo a vista d'occhio fisicamente, adesso diciamo che con il passare del tempo i carichi andranno a scemare, quindi la gamba sarà molto più pulita. Ripeto, abbiamo fatto una buona gara secondo me a Trieste, l'abbiamo riguardata, l'abbiamo guardata con attenzione, abbiamo capito gli errori, gli errori sono fatti per non essere commessi più. Cercheremo comunque di lavorare sotto l'aspetto realizzativo, di alzare l'indice di pericolosità. A proposito della sconfitta di Trieste, hai detto che è andata bene un'ora, quindi ti chiedo a tuo parere, avendo anche rivisto la partita, cosa non è funzionata fondamentalmente nell'ultima mezz'ora e in cosa la squadra dovrà cambiare per non incappare ancora negli errori fatti a Trieste? Noi effettivamente abbiamo sbagliato, secondo il mio parere, dieci minuti di quella partita dove abbiamo preso tre gol, dal sestantesimo al settantesimo, solo quella parte di partita perché poi dopo alla fine con i cambi abbiamo perso un po' di equilibrio, però siamo andati a concludere tante volte, potremmo prendere un gol, però potremmo farne anche noi un paio. Però io ci tengo a precisare che sono stati sbagliati quei dieci minuti lì, secondo me, dove non ci abbiamo più creduto, abbiamo smesso di crederci. Dove dobbiamo migliorare? Dobbiamo migliorare alcuni aspetti, dobbiamo migliorare prima di tutto l'indice di pericolosità, dobbiamo aumentarla un po'. E sta a me, allenatore, trovare la soluzione giusta, la chiave giusta per far sì che questo accada già la prossima domenica. A proposito dell'indice di pericolosità in fase offensiva, numeri alla mano, dicono due gare ufficiali, zero gol realizzati. Pensi di cambiare qualcosa? Cosa manca a questo Arzegnano per pungere l'avversario, a tuo parere? Ma siamo lì, nel senso che manca poco, perché adesso è molto più chiara la situazione, è molto più chiara dopo un mese e mezzo, sono molto più chiare le caratteristiche dei giocatori. E quindi adesso, ripeto, sta a me trovare la chiave giusta per essere un po' più pericolosi e per essere un po' più difenderci in maniera diversa. Non cambierà nulla, ma cambieranno solo alcune situazioni, che comunque ho già parlato con i ragazzi. Noi cercheremo già da lunedì di mettere in pratica quello che noi abbiamo preparato per essere un po' più pericolosi. Fin qui, sia in Coppa che in Campionato, la squadra ha comunque giocato delle buone gare, ma sono entrambe arrivate due sconfitte. Quindi bisogna per forza cambiare questa striscia negativa? Assolutamente. Noi abbiamo adesso un'opportunità molto ghiotta, quella di giocare in casa. Abbiamo le prossime due partite casalinghe. Già da lunedì cercheremo di fare punti, perché il nostro obiettivo è fare più punti possibili. Ricordo che il nostro obiettivo è la salvezza, meglio raggiungibile o meno patema d'animo rispetto all'anno scorso. Quindi per fare questo bisogna iniziare a fare punti e ci dobbiamo muovere. Per noi è un'occasione importante, già quella di lunedì. Affronterete l'Albino Lefe, quindi ti chiedo se mi puoi dare un po' una specifica della squadra avversaria. È una squadra che gioca molto sulla profondità, sono giocatori importanti e quindi Zom è un giocatore che attacca molto la profondità. Quindi è un giocatore che dobbiamo attenzionare, dobbiamo essere bravi nelle preventive e dobbiamo essere bravi a non scoprirci. Perché poi dopo, ripeto, loro sono molto divetti, giocano un calcio molto verticale. Quindi sotto questo aspetto potrebbero crearci delle difficoltà. Un'ultima domanda, rispetto alla scorsa partita cambierai qualcosa e soprattutto cosa dovrà fare l'Arzignano per uscire dal campo con un buon risultato? Ma no, non cambierei, ancora non so, per certo la formazione c'è ancora qualche dubbio, qualcosa cambieremo, ma non cambierà l'assetto di gioco. Noi comunque cercheremo sempre di creare gioco, cercheremo sempre di dominare il gioco e quindi sotto questo aspetto non cambieremo nulla. Cercheremo di attaccare in maniera un po' differente, ma i concetti, i principi di squadra, i ragazzi danno assimilati e quindi dobbiamo continuare sotto questi aspetti. Grazie a mister Alessandro Bruno. Verso Arzignano Valchiampo, Albino Leffe con Andrea Boffelli. Il nostro difensore e vicecapitano ci presenta la prima giornata tra le mura di casa, la seconda di Serie C Now 24-25. Grazie mille Andrea. Nuova squadra, tra conferme e giovani nuovi arrivi, nuovo modulo. È un Arzignano che dopo una parentesi in Coppa Italia è sceso in campo per la prima di campionato a Rocco di Trieste. Concentrandosi su ciò che si è visto nel terreno di gioco, cosa vi siete portati da questa prima partita e cosa avete sviluppato poi in settimana in vista di domani? Buongiorno a tutti. Allora, dalla partita di domenica penso che ci siamo portati delle cose, secondo me, sia positive che negative. In questo mese e mezzo che abbiamo lavorato insieme comunque abbiamo imparato cose nuove rispetto agli altri anni, abbiamo cambiato tanti giocatori, quindi ci è voluto tanta dedizione, tanto lavoro per capire i nuovi concetti. Penso che nei primi 60 minuti di domenica un po' del nuovo gioco si sia visto. Sicuramente sappiamo noi in primis che dobbiamo impegnarci di più e lavorare di più perché sono concetti a noi nuovi e ci vuole del tempo. Però sappiamo che il tempo non ne abbiamo e quindi già da lunedì dobbiamo cominciare a fare punti. Nel posticipo appunto del lunedì sera affronterete al Dalmolin l'Albinole F di Mister Lopez. Analizziamo la gara Andrea. Allora, l'Albinole F diciamo che lo conosco abbastanza bene perché ci ha giocato contro tante volte. Sappiamo che è una delle classiche squadre di serie C che gioca tra i 5 e i 2. L'anno scorso era una delle squadre che penso subiva meno volte tutto il campionato, comunque tante volte finiva 0-0. Sappiamo che è anche molti giocatori importanti, tra cui attaccanti, che sono molto pericolosi. Quindi sarà una partita molto dura dove come sempre i dettagli faranno la differenza e siamo pronti per giocarla. Francesco Meneguzzo del Giornale di Vicenza. Sì, ciao Andrea. Sei ormai diventato uno dei punti cardini di questa squadra, vicecapitano. e sei il leader di quello che era il reparto più importante dell'Arzegnano, visto che negli ultimi anni la difesa è sempre stata un punto di forza. Quest'anno l'inizio non è stato così positivo, visto che diverse volte avete subito gol. A tuo parere cosa deve fare l'Arzegnano per risolvere questo problema? Come ho detto prima è cambiato un po' il modo di difendere, è cambiato il modo di interpretare la gara. Quindi sicuramente anche noi difensori dobbiamo applicarci di più e quindi trovare il modo per subire il meno possibile. Perché come avete visto quest'anno è un calcio più propositivo anche da dietro, quindi si è portati ad essere un pochino più partecipi al gioco. Però sicuramente il nostro focus deve essere quello di prima di tutto non prendere gol, soprattutto da parte dei noi difensori. Quindi per la partita di lunedì, come ha detto il mister, bisogna stare attenti alla loro profondità, alla pericolosità di giocatori come Zoma che sicuramente giocheranno su questo. A tuo parere, da leader quali sei, ti chiedo qual è la strada che l'Arzegnano deve percorrere per arrivare alla salvezza? La strada penso che l'abbiano capita tutti. Siamo una squadra giovane, tanti giocatori non hanno mai fatto questa categoria, quindi penso che la cosa principale sia il lavoro, gli allenamenti durante la settimana, dare tutto, far capire ai più giovani a cosa serve per fare punti in Serie C e cosa serve per diventare calciatori. Quindi penso che questa sia la cosa più importante. Ma vedo che c'è molta partecipazione anche dai più giovani e quindi hanno capito che con il duro lavoro possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni. La prima in casa, Andrea, come scenderà in campo l'Arzegnano? L'Arzegnano secondo me scenderà in campo sempre per fare punti, soprattutto in casa dove siamo costretti a fare punti perché io penso sempre che è dalle partite in casa dove si costruisce una salvezza, quindi da lunedì penso che la cosa principale sia fare punti. Scenderà sempre in campo l'Arzegnano con la fame e la voglia perché è quella che ci deve contraddistinguere e soprattutto essere sempre l'umiltà di fare la corsa in più per il compagno e di vincere il duello che ci può portare a grandi soddisfazioni e portare punti a casa. Grazie alla stampa, grazie al nostro difensore Andrea Boffelli. Il fischio d'inizio è alle ore 20.45 qui allo stadio Dal Molin per FC Arzegnano Valchiampo al Binoleffe. Seconda giornata di campionato Serie Cinao, la prima, ricordiamo, appunto tra le mura di casa. Ringraziamo di nuovo e auguriamo buon lavoro al nostro vicecapitano Andrea Boffelli. Grazie.